Quanto vale oggi Avio? Avio si è quotata sul segmento star della Borsa di Milano nel 2017 ed è una delle pochissime aziende dedicate al settore spazio ad essere quotate a livello globale. È una capitalizzazione di mercato che è di poco superiore a 400 milioni di euro. Abbiamo un'altissima percentuale di ingegneri fisici e matematici che lavorano per noi essendo diciamo delle tecnologie sicuramente molto molto sofisticate. La Space Economy potrà diventare veramente un pilastro dell'economia mondiale? Sicuramente sì, la Space Economy è uno dei settori che a livello globale sta crescendo di più in particolare trainata proprio dallo sviluppo e di applicazioni di servizi satellitari servizi di connettività, di osservazione della terra, di monitoraggio dei confini di monitoraggio dello stato di salute del pianeta e molti paesi stanno pensando e sviluppando dei satelliti da mettere in orbita. Grazie a tutti!